Cari amici, tocca a me concludere, mi sembra giusto, sono il festeggiato. È un grande evento della mia avventura di collezionista la presentazione di questo libro e sono felice che essa sia avvenuta nella cornice straordinaria dell'Accademia di San Luca, in questo nobilissimo Palazzo Carpegna che ospita da molti anni la nostra benemerita Accademia Nazionale di San Luca, che nasce da questo. I pittori mal tolleravano di far parte di corporazioni con arti minori, arti vili. Quindi, pensate che i pittori a Roma facevano parte della corporazione dei tessitori. Cosa centravano i tessitori con i pittori? Non si sa. Però era la stessa corporazione. Per distinguersi, imitando l'esempio che aveva ispirato Giorgio Vasari, dieci anni prima, fondando l'Accademia delle Arti del Disegno a Firenze, i pittori romani fondano l'Accademia di San Luca. Accademia di San Luca che ottiene rapidamente le patenti pontifice e diventa un'istituzione fondamentale perché essere accademico di San Luca dava diritto a una prerogativa importantissima dal punto di vista sociale. Non si era più mastri, ma professori. L'Accademico di San Luca era perciò stesso un professore, mentre precedentemente si sarebbe dovuto chiamare mastro. Ora, è più il titolo professore o più il titolo mastro? E qui vorrei ricordare quello che diceva il più grande giurista del Novecento, Francesco Carnelutti. Quando Francesco Carnelutti era chiamato maestro, lui diceva, sono molto onorato di questo titolo che mi ho dato, perché maestro viene da magister e indica un più, magis, molto ma molto di più di un ministro, che viceversa viene da minister e indica un minus. Infatti il ministro era normalmente, era normalmente in Toscana, il ministro di una fattoria è normalmente quello che fa le faccende umili. Quindi diceva, chiamandomi maestro, voi mi mettete molto al di sopra di un ministro. e allora, tenuto conto che mastro veniva da magister, io mi domando se il titolo di professore sia di più o di meno. È un problema, anche questo, molto enigmatico, e quindi mi congetto da voi, richiamandomi ancora una volta a un enigma. Grazie. Grazie. Grazie.